Ma guardate, ha detto, quella anella, ha detto, quella anella, ha detto ma è falsa, ha detto, come sarebbe che è falsa, ha detto è vero, ha detto non è che me lo voglio regalare, ha detto allora sei pur stupido, ha detto me lo regali, e prima ha detto, no ha detto è vero, ha detto i pietri su 500 euro, ha detto c'è la carta luna, e poi ha detto di canella già a 30 anni fa mi è nato a un milione, che non è vero ora come il nostro, 19 e 14 c'è scritto a lei, poi ha detto se me lo voglio regalare, ha detto ma allora sei pur pazza, ha detto, mi guardate, mi hai detto questo come un mitragliatore, non la c'è, sto mattino prima di un acquaggiaera in posizione che ho fatto mezzo ore, la c'è naso, i piedi sono volati, i piedi volati, la c'è e che fate se ne è andata, ha detto va a te, figlio, hai detto, sei troppo in ritardo, c'è mio figlio franzo, ha detto, il mio figlio franzo è la prima gamba di 50 anni, Ciao Franco, guarda tirare su bene la gamba. Madonna bello, io, come non ti ricordi? Ma come non ti ricordi? Sì, ma se già sarò bene, ho dato due o tre bacettini.